Fu allora che vi ti lovest. Cosa ci facevo con Gimbo? Il mio miglior amico. Come si dice? Stocastico. A me sembra stogazzo. Spesso sono coloro che sono andati oltre delle volte, quelli che hanno delle visioni. Ecco, ne ho avuta una. C'è chiara? What are the girls? Blonde girls, black girls, American, Indians, whatever you want. And blondie. You say what girls? Girls? We are Italians. Non sono tutti amari americani, sono tutti amari italiani. Vai. È il mio!